A vederci, grazie. Grazie a lei, a vederci. Buongiorno. C'è i crackers? Crackers? Niente. Purtroppo i crackers. C'è i crackers? Crackers? Non ne abbiamo i crackers. Mi dispiace. C'è i crackers? Ho detto che i crackers non ne abbiamo. I am sorry. Spiacente. Cosa c'è i crackers? I crackers non ci sono. Basta, ho detto che non ci sono crackers, non ce ne sta. Ma bu. Eh no. Cosa c'è i crackers? Eh, se non te ne vai adesso, prendo due i chiodi e ti attacco al muro. Hai capito? Scusa, c'è i due i chiodi? I chiodi? No. Allora, mi dai i crackers? Scusa, c'è i qui. Grazie.